L'Italia si modernizza, l'Italia cresce, Milano e la Lombardia sono sempre più al centro delle grandi connessioni nazionali e internazionali. Parte l'alta velocità, oggi abbiamo inaugurato la tratta che da Torino arriva a Milano, scende a Roma, Napoli, Salerno, con infrastrutture modernissime, l'Italia ha riguadagnato il primato in Europa riguardo alla tecnologia dell'alta velocità. La Lombardia ha secondato e accompagnato questo processo di modernizzazione perché spostarsi rapidamente da nord a sud a ovest verso Torino e tra breve anche a est verso Venezia, la Slovenia e il resto dell'Europa diventano fondamentali per la competitività del nostro territorio. Ma noi miglioriamo l'alta velocità senza dimenticare il traffico dei pendolari tra poco scatterà un nuovo orario invernale con decine e decine di corse in più, abbiamo sudato sette camice per convincere Trenitalia ad accettare la nostra impostazione, ci aspettiamo un miglioramento effettivo, lo vedremo insieme amici pendolari, ma il miglioramento lo abbiamo programmato, guai se non arrivasse. Nel frattempo inauguriamo anche i nuovi ospedali, li consegniamo al pubblico perché li veda, è il termine dei lavori, questo è successo a Vimercate, questo succederà tra breve a Come, nelle altre località dove stiamo costruendo dieci nuovi, grandi, modernissimi ospedali per Regione Lombardia. Infrastrutture è l'uno e l'altro tema, come infrastrutture è anche il sostegno che vogliamo dare sempre di più ai nostri piccoli e medi imprenditori, ai nostri giovani perché abbiano a disposizione la dote per migliorare sempre che le loro conoscez.